molto bello prof da dove partiamo da questo video famoso che le è piaciuto molto che voleva questo video noi dobbiamo pensare dobbiamo anche pensare proprio in funzione delle attrezzature che vediamo ecco pensiamo a come potremmo farle con le attrezzature di adesso che sono anche anche meglio ecco chiaramente questi sono gesti proprio da atletica leggera però noi veniamo ad esempio ecco questo allora un grande fisiologo ferma il video se puoi un grande fisiologo anche lui purtroppo parliamo troppo di gente che ci ha lasciato che era Carmelo Bosco in un convegno un convegno dove c'erano centinaia e centinaia di persone di preparatori atletici di tutti gli sport perché lui aveva questo gusto e questa capacità di mettere insieme e far litigare i preparatori di tutti gli sport che venivano anche dall'estero in una specie di cazzeggio gioco dicemmo tiriamo allora possiamo allenare la forza solo con un esercizio per il calcio solo un esercizio e lui tirò fuori questo disse otto ostacoli alti un metro perché lui esagerava a non mi ricordo che distanza comunque da fare a piedi paralleli così con una spinta solo ecco se devo se vado sull'arca di Noè dove posso portare solo un esercizio prendo su quello io Grazie a tutti.